Il mio babbo ha girato con me tutti i giorni per cinque anni, quindi fino a 23 anni, tutti i giorni. Io avevo, da quando mi svegliavo, quando andavo a letto, il mio babbo, dopo i primi due anni non ne potevo più, perché dicevo ma non sto mai da sola, cioè, però adesso io penso che devo veramente ringraziare quei cinque anni benedetti, perché io ne ho incontrate tantissime di miei colleghi e colleghe che iniziando da giovani sono andati fuori di testa, perché questo mestiere ti porta a vivere una vita non sana, la fama non è sana. Quindi avere qualcuno che ti aiuta, ti appoggia, ti sgrida anche come un padre. Io non ho avuto il padre padrone che mi diceva devi cantare questo, devi fare quello, no, quello non l'ho mai avuto. Però si è comportato da papà e mi ricordava continuamente che io ero Laura.